Le intolleranze alimentari determinate geneticamente fondamentalmente sono poche. La intolleranza al lattosio, la celiachia ed eventualmente l'intolleranza all'istamina. Per quanto riguarda la celiachia, presuppone il fatto di avere degli aplotipi a livello di Q2 e Q8, che però non necessariamente poi si traducono nello sviluppo della malattia celiachia, che appunto invece deve essere diagnosticata sulla base di evidenze cliniche specifiche, tra le quali anche la valutazione dell'eventuale atrofia dei villi intestinali. A livello di test genetico noi possiamo trovare anche un polimorfismo a carico del DQ7 e questo comunque predispone alla gluten sensitivity, cioè la gluten sensitivity non è celiachia, quindi non vuol dire che necessariamente ci debbano essere tutti questi parametri che servono per fare diagnosi di celiachia, ma è una sindrome, se vogliamo definirla tale, che corrisponde al fatto che coloro che assumono prodotti che contengono glutine hanno dei fastidi di varia natura e quindi viene identificata come gluten sensitivity. Ovviamente il fenomeno della gluten sensitivity viene esacerbato e si esprime clinicamente in misura maggiore nel momento in cui si consumano grandi quantità di prodotti contenenti glutine, che sono senz'altro però alla base della cosiddetta dieta mediterranea. Il fenomeno è peggiorato ulteriormente perché i grani recenti sono ad alto contenuto di glutine, viceversa, magari certi grani antichi hanno un più basso contenuto di glutine e quindi sarebbero comunque da preferire. Ancora peggio è la situazione negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti il grano viene coltivato con un uso massiccio di un erbicida che è il glifosato. Il glifosato ha un effetto negativo predisponente all'intestino permeabile e quindi questo appunto favorisce un'infiammazione a livello intestinale che in parte è già favorita dal glutine e di conseguenza quel tistentino permeabile che favorisce il passaggio di molecole proteiche indigerite da parte appunto che provengono appunto dalla proteina gliadina del glutine favoriscono delle risposte di tipo immunitario, anticorpale, che possono predisporre anche ad altre malattie autoimmuni. Tanto è vero che gli americani che soffrono di gluten sensitivity consumando prodotti a base di frumento negli Stati Uniti, quando vengono in Italia e magari consumano la pasta che in Italia tendenzialmente deriva da un grano che è frutto di coltivazioni con un uso meno massiccio di glifosato, magari presentano molto di meno questi disturbi legati appunto alla cosiddetta gluten sensitivity. Viceversa gli italiani che non hanno problemi di gluten sensitivity vanno magari negli Stati Uniti, consumano la pasta negli Stati Uniti e hanno i problemi. Quindi vedete come esiste questo fattore aggiunto predisponente del glifosato che tra l'altro è stato recentemente considerato un cancerogeno, però è ancora permesso nelle coltivazioni che è un fattore aggiuntivo a questo rischio predisponente già su una base genetica. Quindi raccomando a tutti comunque di cercare di assumere soprattutto delle coltivazioni di frumento di origine biologica che non sono completamente esenti da glifosati, ma senz'altro ne hanno un contenuto inferiore. L'altra intolleranza è quella al lattosio. L'intolleranza al lattosio fondamentalmente è legato a un deficit di produzione dell'enzima lattasi che serve appunto a digerire il lattosio. Questo deficit enzimatico si sviluppa soprattutto col passare degli anni, cioè progressivamente negli anni la maggior parte degli individui, soprattutto nelle zone del sud Europa, tendono a perdere questa capacità di digerire il lattosio. Quindi questa non digestione del lattosio porta a dei processi di tipo fermentativo con produzione di gas, genera meteorismo e favorendo così una disbiosi intestinale che appunto genera delle problematiche. E spesso, siccome tra l'altro io mi avvalgo anche di test per le intoleranze alimentari di tipo ematico, che sono test che vanno a testare i singoli alimenti e verificare se ci sono delle risposte anticorpali di tipo IgG, che sono delle sorte di allergie ritardate, a volte i miei pazienti sono sorpresi per il fatto che eventualmente ci può essere una non corrispondenza, cioè una intolleranza magari al lattosio su base genetica e non una corrispondente intolleranza ematica riguardante latte o latticini o derivati formali, eccetera. Questo perché in realtà le intolleranze ematiche sono su base anticorpale in risposta a un antigene che è la componente proteica dell'alimento, in questo caso soprattutto la caseina, che è la proteina un po' più infiammatoria e più allergica. Quindi non c'è corrispondenza fra intolleranza al lattosio e intolleranza ematica agli alimenti contenenti latte. A volte però le cose sono spesso associate, perché? Perché è un'intolleranza al lattosio che genera una disbiosi intestinale, anch'essa favorisce l'intestino permeabile, a questo punto le proteine indigerite del latte più facilmente passano attraverso la mucosa intestinale e quindi generano appunto una risposta anticorpale. Però non è necessariamente detto che questo avvenga. Una ragione per la quale appunto sono le caseine ritenute essere le proteine più, diciamo allergogene più infiammatorie, è anche considerata nel momento in cui si fanno delle cosiddette elimination diet per diminuire il carico infiammatorio e tendenzialmente si tende ad escludere appunto latte e derivati ma non per esempio le proteine del siero o la ricotta che è fondamentalmente prodotta a partire dal siero e quindi tendenzialmente non ha caseine. Altra intolleranza che possiamo considerare alimentare è l'intolleranza all'istamina. Questo perché ci sono degli alimenti che contengono istamina e sono fondamentalmente i cibi fermentati, il pesce in scatola, la birra, il vino. Ebbene, in certi soggetti che dal punto di vista genetico hanno un polimorfismo che fa sì che non producono abbastanza DAO, cioè di amminoossidasi, che è l'enzima deputato a catabolizzare l'istamina, quindi a smantellarla, allora questi soggetti tollerano meno l'istamina, sia l'istamina presente nei cibi, sia quella che può essere generata da certi cibi, perché ci sono dei cibi che sono considerati generatori di istamina, quali per esempio il caffè stesso, gli agrumi, la frutta secca, che a seconda quindi del deficit di DAO devono essere limitati. Ovvio che comunque in queste situazioni, avendo nella consapevolezza, una persona può già proteggersi, assumendo nel caso di intolleranza al lattosio, esistono degli integratori a base di lattasi che ti permettono di digerire meglio appunto il lattosio, oppure anche qualora si è sommesso di questi cibi che contengono l'istamina o che generano l'istamina, assumere degli integratori a base di DAO che esistono in commercio e questo quindi per alleviare i sintomi. Quindi valutare con i test genetici queste predisposizioni genetiche, anche se non necessariamente si traducono in un sintomo clinico abbastanza evidente, è senz'altro una cosa positiva che si dovrebbe fare proprio per evitare poi manifestarsi eventuali di queste problematiche.